Qual è la capitale gastronomica dell'Asia? C'è chi dice Shanghai, chi dice Singapore, qualcuno inserisce anche Pechino o le nuove destinazioni come Bangkok e Jakarta. La verità è che camminando per uno di questi mercati della intramontabile Hong Kong, la sensazione netta è che il primato di questa città, il primato gastronomico di questa città è qualcosa che dura nei secoli e nel tempo. E non è dovuto solo ai grandi ristoranti o perlomeno non è dovuto solo esclusivamente ai grandi ristoranti o al lusso della tavola, di alcune tavole di Hong Kong, ma è dovuto principalmente alla cultura della gente comune che ama la buona tavola. Hong Kong è sulla costa meridionale della Cina, in una regione geografica che per millenni ha avuto fama golosa. Le leggende cinesi narrano di imperatori e mandarini del passato che dal nord venivano da queste parti in pellegrinaggio gastronomico, a assaggiare le delizie locali. Non che questa fosse una terra ricca, al contrario, le genti di qui hanno dovuto sempre lottare con la scarsessa. Ma forse anche da queste penurie è nato il loro grande rispetto per gli ingredienti, la venerazione della dea freschezza e la preferenza per piatti dove a risaltare sono i sapori dei prodotti, non le spezie, né i grassi, né i pasticci. Grazie.